Buongiorno, siamo al Cinema Iris, una giornata interessantissima per il liceo di Lago Negro in presenza del dirigente scolastico a cui chiediamo qual è stata l'impressione della giornata di oggi. Professore? La giornata di oggi è una di quelle che ci fa sentire il senso profondo dell'essere persone di scuola, cioè il contatto con delle professionalità e delle persone che hanno già frequentato questo istituto e che hanno fatto le loro esperienze di vita e che però restano legati a quel periodo della loro infanzia, la loro preadolescenza che poi ha in qualche maniera catalizzato i loro interessi creando poi delle professionalità che si sono dipanate in tutta... alcune vediamo qui anche con i campi di Skype in tutto il mondo praticamente. Professore, si è parlato del grande De Lorenzo, quale docente e anche persona filosofo che ha avvicinato il mondo orientale con quello occidentale. Che cosa ne pensa? Qual è stata la sua impressione e la conoscenza di questo grande uomo di scuola? Ma ahimè, io non conoscevo De Lorenzo prima di venire qui a Lago Negro e già la dice lunga insomma sul fatto che molte volte dimentichiamo quelle che sono le personalità fondamentali di un territorio. Una personalità interessantissima perché coniuga, ha saputo coniugare il sapere scientifico, il sapere umanistico e ancora di più ha saputo coniugare le culture, le culture occidentali con quello orientale e questo è un momento così difficile come il nostro dal punto di vista anche socio-economico con le difficoltà e con i flussi di immigrazione che stanno caratterizzando la nostra epoca come un estremo disagio di intere comunità che hanno diritto a conservare la speranza e nutrire i desideri di libertà. E quindi penso alla tragedia di Lampedusa, alla tragedia di ieri sera insomma che ancora ci fa capire come sia importante riflettere sul senso profondo delle culture, quindi dell'integrazione delle culture e tutto questo passa da una comprensione, da una conoscenza e comprensione delle culture altre insomma. In questo caso De Lorenzo è uno dei personaggi, uno di quelle persone che andrebbero studiate e conosciute ancora di più. Abbiamo visto dei bellissimi video dei pionieri del liceo scientifico del passato che hanno lasciato in eredità i ragazzi di oggi, quindi i nuovi liceali un bellissimo patrimonio e delle bellissime esperienze nel mondo del lavoro molto molto importanti. Che cosa le è rimasto come ricordo, come emozione? Ma intanto è veramente una grande emozione. È una grande emozione perché come dicevo all'inizio è raro vedere delle persone che si ritrovano dopo tanti anni, dopo tanti anni non avendo smarrito innanzitutto l'entusiasmo. L'entusiasmo, io dicevo, ho detto nel mio intervento che quando mi hanno proposto la cosa pensavo fosse uno di quei ritrovi nostalgici che fanno anche un po' tenerezza. Invece no, ho visto negli occhi di queste persone l'entusiasmo e la voglia di continuare e soprattutto di trasmettere conoscenze ed energia mentale alle nuove generazioni. Questo gemellaggio dopo 50 anni caratterizzerà il percorso per i futuri 50. Speriamo che le nuove leve siano all'altezza del loro compito. Stamane ha conosciuto e incontrato personalità del Lago Negrese, i quali può essere il sindaco, avvocato mitidieri, ex professori, ex dirigenti scolastici. Qual è stata la sua impressione e se lo hanno accolto bene qui a Lago Negro? Ma benissimo, io ho detto che benché vivo a Salerno da molti anni sono lucano di Sarconi, quindi è una realtà che conoscevo. Ma la cosa che in qualche maniera mi ha reso ancora più orgoglioso è che questa realtà è conosciuta molto bene anche a Napoli, Salerno, è un liceo conosciuto, quindi per situazioni un po' piccole di provincia come questa secondo me è una bella soddisfazione. È un liceo conosciuto, direi blasonato, l'accoglienza è stata splendida, il preside calabrese, il sindaco, i docenti. Poi un corpo docente è unito, unito che lavora per il bene dei ragazzi e questo devo dire non è frequentissimo. E Lago Negro ha conosciuto la nostra città, piccola rispetto a Salerno? Sì, diciamo che la sto conoscendo perché non ho avuto ancora il modo, perché gli impegni sono tanti, non ho avuto ancora il modo di conoscere tutte le particolarità. Però è un territorio che sento sicuramente familiare, familiare perché sono un lucano, sono orgoglioso di esserle, e quindi conservo nella lucanità anche la giusta riservatezza, ma l'accoglienza calorosa delle persone di montagna. Quindi signor preside sarà vicino agli alunni, considererà il nuovo decreto che riferisce ai BES? Ma come no, certo, anzi è proprio il nostro liceo, per quanto ancora l'onormativa non sia chiara perché non ha ancora legge, ha già avviato in via sperimentale queste nuove strategie di natura, diciamo che rappresentano il vero senso dell'accoglienza prima e poi dell'inclusione di tutti i ragazzi. Quindi i ragazzi al centro della cultura della scuola e di tutto quello che interessa, insomma, cosa ne pensa dei tagli ultimi proprio riferiti alla scuola? Ahimè, i tagli sono ormai annosi nel mondo della scuola, e certo, molti dicono che sperano un'inversione di tendenza, però se non si capirà che il capitale umano e sociale è la ricchezza più grande che un paese ha, soprattutto il prendersi cura dei propri figli, al di là degli obbligo costituzionali, insomma, è un'esigenza profonda di tutte le comunità, di tutti i popoli, perché rappresenta la nostra ricchezza, il nostro futuro, quindi se non si investe su questo penso sia veramente mio qui. Un'ultima domanda. Dalla dottoressa Labanga ha riferito che andare a scuola un tempo era un lusso, un privilegio, oggi è un dovere e diritto, cosa ne pensa? Ma è così, insomma, la scuola è cambiata moltissimo, dà molte più possibilità, molte più opportunità. Eh sì, in realtà, prima c'era un sistema scolastico completamente diverso, fondato soltanto su una direttività di situazione. Adesso, modello costruttivista in cui i ragazzi sono artefici, veramente artefici del loro destino, con il contributo sostanziale dei docenti. Quindi costruiscono insieme conoscenze. E in verità la scuola oggi dà tante opportunità. Da tante opportunità noi le cogliamo tutte, anzi, le amplieremo, avendo sempre questo collante forte con il mondo del lavoro, dell'impresa e anche in una visione europeista della formazione scolastica. Auguriamo una bellissima esperienza qui a Lago Negro, al preside e dirigente, professore Sant'Arsiere. Le facciamo i nostri migliori auguri da parte dell'Eco di Basilicata. Bene, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci. Grazie.